Buonasera a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video europei, europei di atletica soprattutto che iniziano oggi e sono appena terminati nel momento in cui sto registrando il video i 10.000 metri femminili, poi ovviamente non si sa quando uscirà questo video perché ho un po' di problemi con la connessione, con il caricamento, quindi magari uscirà fra 10 giorni questo video, non lo so, però vabbè, a parte gli scherzi, appena terminati i 10.000 metri femminili, una gran bella gara vinta dalla turca Chan che strappa praticamente a 6-7 giri dal traguardo, la McCooligan, la britannica, dietro non risponde subito, forse perché non ne ha, forse per una scelta, non lo so, fatto sta che alla fine comunque sprinta e riesce ad ottenere il secondo posto, quindi l'argento, per distacco sull'israeliana Sarpeter. Se non erro, si chiama, sì, potrei anche aver detto una cavolata, però insomma, gran bella gara, me la sono goduta perché sono stato comunque in tranquillità, anche se non c'erano italiani, diciamo che è stato un bel dessert prima di andare comunque, prima di andare a dormire, ecco. Per quanto riguarda invece gli italiani, ovviamente tempo di qualificazioni, in mattinata il getto del peso uomini, perché stasera c'è stata la finale con Nick Ponzio che chiude in quarta posizione, peccato perché per ambire comunque ad un podio a qualcosa di più serviva portare il peso oltre i 21 metri e non sarebbe nemmeno bastato, perché comunque Stanek, il terzo, il seco, comunque, mette a segno una misura di 21 e 27 se non erro, vince il croato Michalievic con 21 e 88. Grandissima gara per lui perché progressivamente si migliora. e primato stagionale per il croato come primato stagionale per Fabri, Fabri che ha avuto tanti problemi a livello fisico ma soprattutto a livello mentale, l'arrivo di Zanebeir, come ha detto anche lui stesso, insomma, gli ha fatto scendere un po' l'autostima e infatti, come ha detto, ha ribadito lui stesso nell'intervista post gara, si sta avvalendo di fatto di un mental coach per appunto riprendersi e direi che è sulla strada giusta perché comunque fa lo stagion al best, quindi la miglior misura della stagione ed è contentissimo. È arrivato, ha concluso comunque la gara al settimo post, però era più contento lui che è Nick Ponzio, Ponzio che è atleta, personaggio diciamo così, nei momenti che contano, nei momenti che contano veramente, fino ad ora è più personaggio che atleta, però secondo me se un attimo inquadra la situazione negli eventi importanti potrebbe fare veramente bene sulla spinta poi, o meglio, grazie anche alla spinta magari di uno Zanebeir che si migliorerà secondo me ed è sulla strada giusta anche lui per farlo. Quindi, ben ritrovati a tutti in questo nuovo video, iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti su questi europei di atletica, ma su questi europei multisport che si stanno svolgendo a Monaco, o meglio, fra Monaco, la maggior parte delle gare, delle discipline, degli sport e Roma, più europei, acquatici ovviamente, quindi noto in vasca, tuffi che sono iniziati oggi e noto sincronizzato che si è concluso oggi. E per non perdere nessun italiano e per commentare comunque questi eventi, insomma, assieme ad altri appassionati, vi invito ad iscrivervi a Fratellanza Olimpica, al gruppo di Fratellanza Olimpica, e parlo di Facebook, e alla pagina, e anche alla pagina Instagram, che non è presente da molto, ma che ultimamente comunque sta crescendo abbastanza rapidamente e veramente vi invito a seguire Fratellanza Olimpica. Si parla di tutti gli sport, o meglio, dell'Italia, in tutti, ma quando dico tutti intendo tutti gli sport, e non si perde nulla. Qualificazioni per le Olimpiadi, ovviamente il culmine di questo, cioè l'evento più importante, è l'Olimpiadi, che si aspetta con trepidazioni, ma l'Olimpiadi, il motto di questo gruppo qual è? Che l'Olimpiadi non c'è ogni quattro anni, ma c'è tutti i giorni, perché tutti i giorni si deve seguire l'Italia, si devono seguire gli atleti azzurri, il loro cammino verso le Olimpiadi, poi ovviamente europei, mondiali, Coppa del Mondo, e chi più ne ha, ne metta. Insomma, seguire gli azzurri ovunque loro vadano, ovunque loro siano, in qualunque gara. Ecco, mi venivano le parole. Quindi, dopo questa intro sull'atletica, quindi prima giornata per quanto riguarda l'Italia, questo, di fatto, il getto del peso uomini, e anche il Decathlon, con un Dario Dester, che, se non erro, ha messo a segno comunque un personale, in una delle discipline, non ricordo quale, perdonatemi, in questo momento, però comunque si è comportato bene anche nell'ultima gara di giornata, nei 400 metri del Decathlon, ha fatto lo stesso anche nel salto in alto, insomma, bene per le medaglie. Non credo ce la possa fare, anche se il Decathlon è pur sempre un'incognita, essendo comunque una disciplina che si svolge su più giorni, tante prove, dipende da come ti svegli, da come ti alzi la mattina. Ecco, passatemi questo termine, abbastanza rozzo, diciamo così, però fondamentalmente questo è. Però, comunque, è difficile per le medaglie. domani, ovviamente, si entrerà maggiormente nel vivo, si partirà sempre la mattina, sessione mattutina. Ah, oggi c'è stata anche la Maratona, me ne stavo quasi dimenticando, mamma mia, con il quinto posto di Giovanna Epis, che si stacca nel finale, peccato, che non si è riuscito comunque a tenere il ritmo delle prime, si stacca e arriva comunque in quinta posizione. Per quanto riguarda gli uomini, Maratona maschile, invece, vince la Germania, con uno sprint all'ultimo, praticamente, ma uno strappo clamoroso, se non l'avete visto, andatelo a recuperare da qualche parte, comunque, questo finale della Maratona maschile, e il primo degli italiani, se non vado errato, è stato Meucci, in tredicesima posizione. Ovviamente, abbiamo detto, europee multisport, è iniziato anche il beach volley, l'europea dei beach volley, la cocca italiana, Scampoli, Bianchin, letteralmente è stata distrutta, ma vabbè, passiamo ad altro, si sta svolgendo anche il tennis tavolo, l'arrampicata, nella quale oggi, non mi pare, siamo andati benissimo, ecco, e arriviamo, giungiamo al ciclismo su pista. Ciclismo su pista, tra ieri e oggi, ragazzi, partiamo un attimo da ieri, c'è stata anche la gara su strada maschile, tra l'altro ieri, e adesso ci arriviamo, però, ciclismo su pista. Elia Viviani, cosa diavolo ha fatto ieri Elia Viviani? dopo essersi scaldato di fatto per 209 km, un po' di critiche per la nazione italiana nella gara su strada, e poi ci arriveremo, decide di correre in pista e si va a prendere l'oro, nell'eliminazione, nella gara, ad eliminazione se non vado errato, si va a prendere l'oro, si va a prendere l'oro, dopo 209 km, corsi, qualche ora prima. Cioè, veramente, Elia, ragazzi, come ha detto qualcuno, se su strada magari, diciamo, è sulla via del tramonto, mettiamola così, su pista può dare veramente tanto, 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 in vista anche di Parigi, 20-24. Quindi, vediamo cosa farà in questi anni, in questo periodo Viviani, però, già solo per quello che ha fatto ieri, un animale, perché uno dopo una gara del genere, su strada, dopo 210 km su strada, cosa fai? Per hobby? Mi vado a prendere un oro, su pista, cioè, veramente, grandissimo Elia, grandissimo Elia, Poi, ieri, se non erro, ci sono state anche altre medaglie, adesso, così, andando a memoria, ma poi, fra una cosa e un'altra, che ho dovuto fare, già la mia memoria è abbastanza corta, mi dimentico tutto, però, vabbè, oggi, l'oro nell'omnium di Rachele Barbieri, tattica, tattica e gambe, come è stato scritto proprio su Fratellanza Olimpica. Prendo da qui questa, questo, questo titolo, questa definizione, perché questa vittoria è veramente bella, 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 come è arrivata nel finale, ma senza badare quasi a nessuno, le altre si marcavano nell'ultima prova dell'omnium, nella gara a punti, lei tira dritto e si va a prendere l'oro, si va a prendere l'oro, ragazzi. Davanti alla Francia, poi, ed è sempre una cosa che ci piace, vabbè, a parte queste cose qui, insomma, una Rachele Barbieri, veramente top, 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 e in due giorni, due ori, non fantastici, di più per quanto riguarda l'Italia, quindi, veramente, bravi, bravi, bravi. Poi, nel chilometro maschile, Bianchi, che si va a prendere l'oro, anche lui, oddio, non vorrei dire una cavolata adesso, perché, come vi ho detto prima, già me ne sono dimenticato di quello che è successo oggi, però vabbè, Bianchi che dovrebbe aver vinto, sì, adesso mi sta venendo un gigantesco buco di memoria, e nel frattempo vado a ritrovare, magari, il post, se... Ah, ieri, tra l'altro, anche la medaglia d'argento di Silvia Zanardi, ecco cosa, mi ricordavo un'altra medaglia, ma non mi ricordavo chi l'avesse presa, vabbè, insomma, fatto sta, abbiamo capito, Bianchi, grandissima prestazione, nel chilometro, maschili. Poi, 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 cosa mi sta dimenticando? Ah, l'argento di Consonni, sempre nell'omnium, ma per quanto riguarda gli uomini, per quanto riguarda i maschi, peccato quel finale tutti appaiati ad uno sprint dalla fine, sempre, gara a punti, anche per quanto riguarda l'omnium maschile si termina con la gara a punti, si arriva praticamente all'ultimo sprint che vale doppio, in cui... nel quale abbiamo praticamente tre atleti, tra cui Consonni, con lo stesso punteggio, è un altro ad un punto dietro. Questi tre che sono davanti guadagnano un giro poi, e quindi distaccano il quarto in classifica, e peccato perché va a vincere il francese, vince il francese di mezza ruota praticamente, davanti a Consonni, però bravissimo anche Simone, comunque, un argento straordinario. Peccato per due argenti oggi, che potevano essere comunque due ori, uno appunto nel ciclismo su pista con Consonni, un altro con check-on, con check-on nel nuoto, e poi ci arriviamo. Passiamo al ciclismo su strada un attimo, un rapido commento su quello che abbiamo visto ieri, cioè, innanzitutto parto da questo risupposto, gara veramente noiosa, cioè, come ha detto qualcuno, preparazione per lo sprint finale di quattro ore e mezza, perché sono stati praticamente 210 km, 209 km per la precisione, di nulla cosmico a livello di spettacolo, ma praticamente tutto piatto, insomma, si aspettava solo lo sprint finale, un velocista su tutti, Fabio Jakobsen era dato come il super favorito, il super favorito, e infatti lui, è lui che se la porta a casa, nonostante l'Olanda nel finale, il treno dell'Olanda comunque si è stato, si sia disgregato, diciamo così, utilizziamo questo termine, e si sia riaggregato più volte, li vedevi che si ricomponevano, poi li vedevi sparsi attorno alla 15 stessa posizione, poi si ricomponevano, eccetera, eccetera. L'Italia, che a pochi chilometri dal traguardo, a un paio di chilometri forse, sembrava comunque molto scomposta, molto, un po' così alla rinfusa, improvvisamente, grazie al lavoro di Ganna, pom, si porta davanti, e le ho detto, cavolo, questa è un'azione che potrebbe essere premeditata, anzi, quindi un'azione a sorpresa, si portano davanti, fanno il ritmo, poi però cosa succede? Ad un certo punto è come se, non mi ricordo chi fosse, comunque, Ganna dà il cambio forse a Guarnieri, ma già il fatto di base, di per sé, di far fare la volata a due italiani, quindi a Viviani e a Dainese, è una cosa sbagliata, secondo me, perché cavolo, tu devi stabilire le gerarchie sin dall'inizio, sì ok che hai due carte, ma ad un certo punto devi stabilire chi fa la volata, soprattutto quando manca praticamente un chilometro e mezzo al termine, un chilometro al termine, maledizione, cioè non possono fare la volata in due, punta su un uomo, fai un treno fatto bene, Guarnieri poi che praticamente si scioglie come neve al sole, cioè tira per dieci metri forse, poi fai il gesto così a Viviani che magari è preso anche un po' in contropiede, altri due treni, non ricordo di chi adesso, di quali nazionali, insomma, ci sorpassano a velocità tripla e lì praticamente perdi, lì perdi perché poi parte Jakobsen, partono gli altri, Jakobsen che tra l'altro vince con una bici di vantaggio su Arnaud Demar, in terza posizione Tim Erlier, quindi diciamo i più forti questi erano, certo l'Italia non era una delle super favorite, però si poteva fare sicuramente meglio, sicuramente meglio, 210 km ad aspettare questa volata e poi fai quel patatrack, cioè succede quella cosa lì, magari non si sono capiti, non lo so adesso, poi non ho nemmeno approfondito con tutti questi sport che ci sono, però cavolo, diciamo che questa volata uscita male rispecchia anche abbastanza il momento del civismo italiano a livello maschile, perché a livello femminile comunque è stagione super positiva, a livello maschile rispecchia il momento del nostro civismo, veramente, non dei migliori, assolutamente, però comunque complimenti all'Olanda che sta guadagnando in generale in questi europei un bel po' di medaglie e complimenti a Jakobsen quindi e anche agli altri che hanno conquistato le rispettive medaglie, quindi civismo su pista, civismo su strada, atletica, già ne ho parlato, che dire, sicuramente mi sarò scordato qualche cosa per come sono fatto io, però passiamo, ah vabbè, ieri si è concluso il canottaggio con un altro oro, perché ieri comunque non ho parlato, non ho fatto video, si è concluso il canottaggio, due parole sulla ginnastica artistica, io vorrei esprimere in breve comunque un concetto sugli sport nei quali ci sono comunque dei giudici, io purtroppo li vedo sempre in mala fede, li vedo sempre in mala fede e probabilmente è così, il pugilato su tutti vabbè, è uno sport che mi è cascato veramente su avete capito cosa, perché degli incontri, dei round sono pilotati letteralmente dai giudici, pilotati, che fanno il cavolo, per non dire altro, che vogliono. Ieri, nella ginnastica artistica ovviamente, quando la nazionale, e l'ho detto anche il direttore insomma della nazionale italiana, delle fate, Casella, che quando la nazionale vince troppo, i giudici cominciano a pensare male, cominciano a vederci qualcosa di strano, cioè cioè non è possibile, secondo loro, che la nazionale sia superore alle altre in una determinata manifestazione, e quindi cosa fanno? Devono per forza in qualche modo far vincere altri. E cosa è successo? Dopo l'oro, due o tre giorni fa di Asia ed Amato, che poi poverina si è infortunata al Malleolo, frattura del Malleolo e quindi tre o quattro mesi di stop e vabbè, ai mondiali, che ci saranno a cavallo fra ottobre e novembre, se non vado errato, non vorrei dire una bagianata insomma, molto probabilmente, non ci sarà Asia ed Amato, perché sì, tre o quattro mesi però poi devi riacquistare la mobilità, eccetera eccetera, per uno sport come la ginnastica artistica, fate due più due insomma. E quindi vabbè, l'oro di Asia ed Amato, l'oro a squadra dell'Italia, altre medaglie comunque sono arrivate. Ieri, a mio avviso, due ori ce li hanno rubati, uno alle parallele. Uno alle parallele, Alice ed Amato era in prima posizione, dopo tra l'altro l'infortunio della sorella, della sorella, al volteggio, quindi anche grande caparbietà da parte di Alice ed Amato. La tedesca comunque anche abbastanza navigata, quindi ovviamente siamo in casa, a Monaco di Baviera. Sì, ok, un bel esercizio, ma nulla di più rispetto ad Alice ed Amato. Tac, l'hanno messa davanti, gareggiava per ultima, l'hanno voluta mettere davanti, per farla vincere. Cioè, lì cavolo sì, ok, brava, ma perché? Perché davanti ad Alice? Perché? E lì vai a pensare male. Però vabbè, dice ok, è successo una volta, storci il muso, e vabbè. Successivamente, più tardi, un'altra volta. Ieri tra l'altro abbiamo guadagnato comunque delle medaglie. Una con Asia ed Amato proprio al volteggio, che ottiene l'argento, però si infortunia. Una con Alice ed Amato, una con Alice ed Amato, poi un'altra se non erro alle... oddio cos'era? Ah no, alla trave nulla, alla trave nulla. Se non vado errato. Sì, mi pare nulla. Già me ne sono dimenticate, vabbè. Al corpo libero, Maggio e Andreoli, veramente brave, brave, brave. Chi è la campionessa in carica? Jessica Gadirova. Siccome l'Italia aveva vinto già troppo, tac, Jessica Gadirova comunque fa un esercizio brava, espressività, ginnicità, eccetera, eccetera. Ma niente di più di Martina Maggio, che aveva fatto 13 e 900 e qualcosa, insomma. Ti stampano il 14 per la Gadirova. Classico proprio. Gadirova, che gareggia per ultima, era la campionessa in carica. Se non vado errato, deve rivincere lei, per fare contenta la bambina viziata. Tra l'altro quelle due, quelle due gemelle, Jessica e Jennifer, cioè non me ne vogliono, ma proprio a pelle mi stanno abbastanza antipatiche. Mi sembrano due che se la tirano, a parte l'espressività, eccetera, eccetera. Non so, magari se qualcuno è arrivato fino a questo momento nel video, ma vi ho messo i capitoli. È del mio stesso parere, insomma. Però vabbè. Argento e bronzo comunque per Martina Maggio e per Angela, la sedicenne, Angela Andreoli. Veramente brava, 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 molto elettrica, esplosiva, pochi passetti e quindi pochi punti, pochi decimi di penalità. Insomma, veramente brava, 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 brava. Quindi, chiuso il capitolo sulla ginnastica artistica, passiamo al nuoto. Il nuoto è Simona Quadarella, semplicemente Simona Quadarella oggi, cioè fantastica, fantastica. Dopo gli 800 vince anche i 1500, ora per i 400 potrebbe andare, insomma, per l'ennesima tripletta a livello europeo, solo che abbiamo una terribile tedesca, insomma, che ci potrebbe, che potrebbe sbarrare la strada, sbarrare la strada a Simona, ed è la tedesca, appunto, Gose, che si è comportata bene negli 800, per 600 metri ha resistito veramente bene. Quindi, se la condizione è la stessa, comunque magari la Gose ha un po' più di esplosività e nei 400 metri può dare veramente nel filo da torcere a Simona. Però vediamo, non ci fasciamo la testa, come si suol dire, prima di rompercela e quindi attendiamo la gara. Però, fatto sta, nel frattempo godiamoci questi 1500, veramente fantastico oggi Simona, che parte subito a bomba, decide di massacrarle prima che fisicamente nell'animo, immediatamente, dà subito lo strappo, rimane lì a circa 5, 6, 7 secondi, rispetto prima a Martina Caramignoli, che poi chiuderà terza e conclude praticamente una carriera a tali livelli nel miglior modo possibile, e poi vantaggio nei confronti dell'ungherese che è arrivata a seconda, di cui non ricordo il nome, però sempre lì attorno a 5, 6 secondi, 7 secondi, quindi si porta in avanti, si dà subito, gestisce e va a vincere questi 1500 metri, straripante a livello europeo, davanti al proprio pubblico, non solo italiano, ma romano, perché lei appunto, se non sbaglio, è romana, e quindi, che dire, grandissima, Simona Quadarello, veramente, grande, 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 Simona. Poi sono arrivati due argenti, quello di Martina Carraro nel 200 rana, lei che è uscita comunque, non si è qualificata per la finale dei 100 rana, ed è rimasta molto scottata da ciò, e per questo si è buttata a capofitto, proprio, io l'ho vista così, cavolo, ora non ho potuto gareggiare nella finale dei 100, ora, nei 200 devo fare qualcosa che non ho mai fatto prima, e infatti, già ieri comunque nelle semifinali, veramente, una bellissima impressione, la vedevi proprio grintosa, di rabbia, ma anche di testa, e oggi si va a prendere questo argento, bellissimo, comunque, dietro solo alla Svizzera Mamie, se non vado errato, sì, e bravissima, Martina Carraro, e Ceccon, Ceccon, di poco, è argento, nei 50, nei 50 dorso, nei 50 dorso ovviamente che, o meglio, nei 50 in generale, partenza e arrivo devono essere perfetti, l'arrivo non è stato perfetto, bracciata lunga, o meglio, bracciata lunga di Ceccon, che arriva appunto troppo lungo, e quindi si fa scavalcare per soli, 4 centesimi, se non vado errato, dal greco Apostolos Christus, comunque, bravo lui, già ieri comunque, se non erro, miglior tempo di ingresso appunto in finale, quindi, bravo lui, che dire, un po' Pollociccon sotto questo punto di vista, ma non possiamo nemmeno definirlo tale, insomma, veramente, questione di dettagli, anzi, questione di centesimi appunto, quindi, bravo comunque Ceccon, un'altra medaglia, domani, per il nuoto in vasca, giornata veramente importante, sono inizia, ah, poi, ok, per il nuoto artistico, anzi, stavo vedendo un'altra cosa, vabbè, a delusione di giornata quale è stata? Burdisso, che non si è qualificato nemmeno per le semifinali del 200 Farfalla, quindi assolutamente non bene, bene Martinenghi, anzi, benissimo Martinenghi e Cerasuolo, perché no, si può sognare una doppietta, domani nei 50 rana maschili, veramente, assolutamente, e poi c'è stata oggi anche la finale della 4% stile libero, mista, con l'Italia che arriva a quarta, ieri invece, se avete visto, o meglio, se non l'avete vista, andatela a recuperare assolutamente, il dominio della 4% stile maschile, veramente fantastici sti ragazzi, veramente bravi, 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 con un Manuel Frigo nella frazione finale, veramente spinto dal pubblico, quasi, anzi, sicuramente, stampa un grandissimo tempo, resiste alla grandissima, ma tutti quanti, veramente bene, quindi, oro pazzesco ieri dell'Italia, comunque, appunto, in questa staffetta maschile. Stavo parlando del nodo, o meglio, volevo iniziare a parlare del nodo sincronizzato, scusate se mi sto inceppando, ma dopo 26 minuti di video, e rotti, e visto l'ora che è, insomma, ci può stare, ecco. Nodo sincronizzato, altri ori per Minisini, praticamente, come se ci fosse solo lui, anche in coppia con Ruggero, anche oggi, quindi, veramente bravi, 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 oggi, ultima giornata era per il nodo artistico, e chiudiamo, ovviamente, in bellezza. Si chiude il nodo artistico, o sincronizzato, che voi vogliate, che dir si voglia, e iniziano i tuffi, il Team Event Italia, subito oro, con una rimonta all'ultimo, subito oro, e quindi iniziamo nel migliore dei modi, e speriamo, insomma, che questi, che i tuffi in questi europei possano essere, possano portarci veramente delle belle e tante medaglie, soprattutto da parte di Chiara Pellacani, che è una delle mie proferite sportive, in generale, proprio una ragazza pulita, cioè, la vedi, gli si legge, o meglio, lo si legge già dal volto, secondo me, mi sta simpatica proprio a pelle, e veramente può togliersi tante 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 soddisfazioni in carriera, già se ne sta togliendo, assolutamente, quindi vai così, forza squadra azzurra, e non credo di essermi comunque dimenticato altro, scusate se magari non vi guardo in faccia, ma perché appunto sto controllando delle cose qui sul computer, proprio su Fratellanza Olimpica, e ripeto, andate a seguire Fratellanza Olimpica. Due sono le cose importanti, iscrivetevi al canale, al mio canale, se vi è piaciuto il video, attivate la campanella, lasciate un mi piace, quello che volete, commentate, sempre con educazione, e l'altra cosa importante, iscriversi a Fratellanza Olimpica. Spero di non essermi dimenticato nulla, ora, questo video forse uscirà fra 3-4 ore, perché a meno che non mi dia una mano qualcuno dall'alto, perché a causa di connessione, come ho detto prima, e altre cose, e altri bug di YouTube, la vedo abbastanza tosta, però io ho intenzione comunque, dopo tutta questa fatica, di pubblicarlo, quindi iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra, qui sotto nei commenti, forza Azzurri sempre, forza Italia, ah, un'altra cosa, del tennis parleremo domani, non ho voluto parlarne in questo video, perché altrimenti troppa roba, e quindi a domani, al prossimo video.